Aggiare dunque le scadenze finanziarie tengono sempre banco. Il sindaco Roberto Bonaccorsi è sempre impegnato nella ricognizione dei debiti in previsione della scadenza del 3 giugno in attuazione del decreto 35 del 2013 in merito ai debiti della pubblica amministrazione. Anche se non dovrebbe comunque slittare oltre la prossima settimana il voto in giunta sul conto consuntivo. Anche il consiglio comunale di martedì è comunque un test importante per Roberto Bonaccorsi. qualora la maggioranza riuscisse ad affrontare gli atti di indirizzo senza particolari frizioni. Ma domani come noto si vota per le elezioni europee e il dato che verrà fuori dalle urne avrà una straordinaria valenza cittadina soprattutto per il dato del nuovo centrodestra e per le preferenze di Giovanni Lavia che sanno già tanto di primo tagliando per l'amministrazione Bonaccorsi.